Benvenuti allo stadio Dall'Arna, dove vi salutano Nicola Rogero, la sfida è quella tra il Bologna ed il Bari, 20 punti in classifica e la Bologna colmenta i limiti della zona retrocessione, 29 punti il Bari. Da Eton che cerca proprio Divaio, attenzione allo stop di Divaio, siamo al limite, si prepara il tiro Divaio, conclusione respinta, ancora Divaio, prova, Gillet si oppone. Parte Comana, non esce Colombo, arriva poi al Miron e sarà rimessa dal fondo. Attenzione Meggiorini che può recuperare il pallone, entra in area di rigore, Meggiorini cerca la frenata, poi la cross dentro, attenzione Barreto al limite, prova Barreto, conclusione sul fondo, l'azione più pericolosa del Bari dall'inizio della partita. Divaio al limite, evita un avversario, adesso però sono un po' troppo su di lui, Divaio prova la conclusione, palla sul fondo, buona azione del Bologna, sull'asse, Mudingai, Divaio. Maggiorini, la palla resta lì, attenzione Barretti in area, prova, è il Bari in vantaggio, al 39esimo del primo tempo, azione un po' caotica, molto bella la conclusione di Barreto. E' arrivata la palla Barreto, è stato bravissimo, la calciata, a fin di traversa, assolutamente imparabile per Colombo. Adesso Al Miron può andare addirittura al tiro, Colombo! In calcio d'angolo, traiettoria felenosa per Al Miron. La Hilton, dalla bandierina, pallone sul secondo polo! E c'è il pareggio della Bologna con il colpo di testa di Gimenez, che è entrato da 4 minuti, riesce subito a trovare la via del gol. Ha fatto una bellissima giocata, bellissimo colpo di testa e ha fatto molto bene. Ancora Gimenez, in posizione di palla, cerca di vaio, anticipato da Andrea Masiello, non è finita. Modesto, al limite, fermato Modesto, può recuperare il pallone, dentro ancora per Gimenez! Gillet che si oppone, Bologna vicinissimo al vantaggio. Adesso angolo per il Bologna, palla che spiove! Ed entra in rete con il tocco ancora di Gimenez! 2-1 per il Bologna, doppietta per Gimenez! Un bellissimo calcio d'angolo, è stato molto bravo a spizzarla sul primo palo, a metterla sul secondo. Gimenez sì, perché c'è il palo, la palla sarebbe uscita. Sì, il palo è di Gimenez. E Gimenez di Cossi, quindi doppietto di Gimenez. Sprinta Mingazzini, può andare in mezzo con il cross per Gimenez, poi arriva Di Vaio! E la palla è sul fondo! Si porta il fischietto alla bocca a Gava, non c'è più tempo! Il Bologna riesce a vincere per 2-1, coronando una settimana d'oro, sette punti conquistati nel giro di sette giorni per il Bologna. E fa un passo importante verso la salvezza. Bari invece viene costretto alla sconfitta in una partita di standard inferiore rispetto al campionato della squadra di Ventura. Grazie a Dio incontrò un gol in un calcio d'angolo e dopo credo che fuori più superiori al Bari. Senti, più difficile il primo o il secondo gol? L'hai toccato? Il primo sì, il secondo è vero che non lo so se l'ha toccato prima o la linea. Tu, è tuo, è tuo. Ah, buono, non lo so, però contento, però credo che hai che lavorare di più perché è molto difficile la situazione nostra oggi.